Nell'episodio precedente di Pokémon Rubino Omega Abbiamo incontrato il Team Magma verso il Monte Camino Abbiamo conosciuto il Mr. Rebus E risolto tutti i suoi difficilissimi enigmi E ucciso tutti quanti Abbiamo vissuto le emozioni infinite Non di una, non di tre Ma ben di due straordinarie evoluzioni Che ci hanno portato alla conoscenza Di due nuovi membri del nostro straordinario team Abbiamo esplorato Ciclamipoli Abbiamo girato per la città E abbiamo soprattutto rotto il culo a Lino il pannolino Benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Rubino Omega Trovo che manco da un po' Io non ce la faccio più regà Ve lo dico, questo è il mio studio Però sto in Svizzera E questa è la mia postazione attuale Questo non è montato Questo si stacca Sto facendo veramente tanta difficoltà regà Veramente, se non mi suicido a sto giro È perché sono un fenomeno Io vi chiedo di lasciare un like e un commento Nei commenti scrivetemi un messaggio di forza Per fare in modo che io sopravviva A questa estrema agonia Spero che il video vi piaccia Questi video che vedrete li ho registrati Due settimane e mezzo fa Però non sono mai riuscito a renderizzarli Perché, indovinato un po', non avevo un computer E ripeto Questo è il mio studio Ciao Immagino sia elettro questa palestra Io però vorrei veramente catturare un Pokémon Prima di tutto Se io vado verso l'alto Qui esco, ok Percorso 111 Ci sarà dell'erba Ho bisogno d'erba Ho un estremo Ho bisogno di erba Questa è la pensione Oddio la famiglia vince Non sta scherzando Spaccaroccia che ci manda su Scusate, è che voglio catturare un Pokémon Ah, non posso usare spaccaroccia Perché non ho la medaglia È certo Mi sa che incatturiamo nessuno Non c'è l'erba, zi Manca l'erba Alla ricerca dell'erba Per tutta OEN Niente Impossibile trovare l'erba Più facile trovarla a Milano E a Milano non ci sono parchi Pensate Ma famo una casa a volta Te le ciclamipoli Allora, capiamo un attimo Questo è il pezzo giù Non può essere troppo difficile La conformazione Sono due quadrati Uno al piano di sotto Uno al piano di sopra Io per non confondere No, a dove cazzo vai? È un parco Qua c'è il market Questa è la torre Eiffella Di Luminopoli Torretta Prisma Sì, vabbè Eretta a testimonianza De che? Della amicizia che unisce Ciclamipoli e Luminopoli Holy shit Ho detto una cazzata Per realtà c'ho ragione È il Poké Centrum Ok, qui tagli dall'altra parte Lì c'è un po' che mi hanno spiaggiato Fatto di marijuana Ecco tu è finita tutta l'erba Del gioco Tutta lì Qua te ne vai Qua c'è il negozio dei bici Senti, è una cosa per volta Voglio una bici, capo Ma qua c'è uno strumento Con chi devo parlare Perché c'è una bici? Con nessuno? Salgo in sella e rubo? Non credo Forse è l'unico tizio in bici Come la pio? È automatica? È a noleggio? È un parchimetro? Ah, questo non è un negozio È un parcheggio E basta Ho capito Ciao Che cazzo è sto zoom? Qua fanno un sacco di persone a botte Me sa Che cazzo sei? Agli betti ma uomo È la prima volta che vieni, sì Questa è la ristoria particolare Per mangiare ci sono regole precise Vai al banco e ordina Una volta ordinato Ti verrà consegnato un ricevitore Al tenere il piatto È come qualsiasi fast food a Milano Mentre aspetti qualcuno Verrà a reclamare la tua sedia E ti sfiderà una lotta Se vuoi mangiare Devi lottare Terzo mangia Ok Ho capito Ah sì, ma c'è la fila Mi dai un panino Vuoi un panino villaggio? Ho mille euro Holy shit Ok Quindi adesso il mio ricevitore Lei va a piedi Si segge E in mo' mi arriva gente Che me va a menare Per un bummer posto Ma è una cosa violentissima Quella è la mia sedia Ma è una cosa super violenta Mi piace Bullo Come cazzo ti permetti A fare bullo col bullo Tu stai fuori di testa Avanti bullo Non so anche a livello Non so manco bassi di livello Tocca capire L'altra palestra Cioè la prossima palestra Di che roba è Perché secondo me È tipo elettro Da vederla da fuori Quindi adesso capiamo Che va elettro Chi mi serve? Uno roccia sarebbe il top No terra Anzi sarebbe il top Se non sbaglio no? Ancora non mi sono paranzi Ma che droga Se sei arrivato fin qui Commenta con Dread Ancora non hai capito Come funzionano i pokemon Assurdo Continuano ad arrivare persone? Ecco vattene stupido 3 minuti di lotta Ah quindi arriva un'altra persona Ehi qual è la mia sedia? Brutta troia Non ha detto questo però Non dovremmo avere difficoltà Contro Oddish Sinceramente se abbiamo difficoltà Con Oddish Spengo il gioco Lo disinstallo E chiudo tutti i miei canali Eccoci qua Devo chiudere tutti i canali È andata così Vabbè Mi profumizza Tanto adesso vorrei molto bruciato Perché come Come quelle persone lì Che gli è capitato purtroppo Quindi è pronto il panino? Io lo slow maniamo in panino Ma sono ritrovato a far botte Con i bambini Sì Sarà pronto fra un minuto di lotta Ah fra un turno Ma avete capito Che non cedo questa sedia? Allora faccio grido di lotta Perché sono matto Tanto non mi puoi uccidere E poi ti faccio ullo rapido Ho sbagliato Ma sei morto uguale Stupido bastardo Vattene Dammi il panino Io volevo mangiare Immaginate se andate tipo Che ne so Da street food X E vi dice Ah sì vuoi il panino si edita Adesso ti arrivano quattro Inergomeni che te menano Se sopravvivi Te do il panino Se no hai perso i soldi Stupido Oddio Terremoto già mo Il premio è un panino? Ma come sei raffreddato? Eh ma Ma come sei raffreddato? E mentre mangio anche Mi arrivano persone a Bullizzarmi? Ah me cura i pokemon Sdrogeggiante Ultra sdrogo? E secondo me Ho sbloccato anche gli altri Ho sparito alla fila di là? No Boh strano luogo Strano luogo Ditemi se si può fare altro In caso non lo faremo mai Comunque Ok il primo è nato Continuando a verso destra Perché a noi ci piace E proseguiamo nel vedere Che cazzo è? La chiesa? Niente Assolutamente nulla È per spercare spazio nella memoria Che mi vendi tu? Droga? Hai contenuto i pokemon Ricevuti dal prof? Sì? Posso insegnargli una mossa? Vediamo Capito sì Ma è affezionatissimo a me Ma non puoi impararla Perché Vabbè sì Non c'ho parole Allora questi sono tutti i banchi Che vendono cazzate Ricompenserò il tuo ardore Ah questi insegnano tutte mosse strane Che non posso imparare La fica? Niente Ah ok Ah solo quando ho l'ultima L'ultima roba Qua dentro tornavano nel poche centro Giusto? Sì che c'è anche il market Ok abbiamo capito Quindi al centro È fatto in questo modo Sto cercando di capire la città eh Voi fatevi un attimo i cazzi miei Oh Non può salire Mi dispiace Vedi questo significa fare i giochi in 3D E non capire che non sia in grado di farli no? Non posso mettermi Non posso Non posso leggere cos'è Centro lotta inversa Perché stanco delle solite Che cazzo è la lotta inversa adesso? Sempre una di quelle cose LGBT L'invenzione del secolo L'inverti lotta? È in grado di invertire la compatibilità dei Pokémon Le mosse fuoco sono super efficaci contro i Pokémon Giusto? Inverti lotta Sorpresa Il fuoco è poco efficace contro Ah tutto al contrario È perfetta per me Fatemi lottare Stupidi bastardi Voglio lottare contro le di te Pigliamos che John Con chi devo parlare fa botte Benvenuta? Vorrei provare un'inverti lotta grazie Quindi qua è completamente a caso Perché io Già non so lui Contro chi è super efficace Figurati No lui è lotta Quindi è psico Quindi psico Non è molto efficace Vero? Ma che ne so Noi useremo bullo Buio Con bullo Che video di lotta gran fiata è una mignotta Porca troia quanto mi ha levato Eeeeee Siamo morti Che come godo Te prego sciottalo Te prego scio Guarda dei cura Ma è inutile una pozza Mi ammazza uguale E evita cazzate Ma cazzate zenne È enorme Vabbè certo Perché è super efficace adesso Bastardo Eh ma dovrei usare delle cose che non ho Sì Dovrei usare tipo O lotta o roccia Però niente Via il cazzo Non ho perso Mi sono ritrovato qua a caso Curami questi pokemon Brutta troia Pezzo di merda Vai via dal cazzo Vabbè Non ci torniamo più là Vaffanculo Ho rosicato Magari te mori Magari madonna Deve morire tu Tutti quanti Ma dove sono? Ma dove sono? Ma dove cazzo sono? Ma dove porco sono? Eccoci come se non fosse successo assolutamente nulla E qui che posto è Con questa pokemon bianca? Che cos'è? Ehi man in black Vuoi cancellarmi la memoria per caso? Aspetta un momento Sembra un allenatrice in gamba Questo è per te Accettalo senza fare i complimenti Registra dati volentieri È un altro oggetto che non userò mai Grazie mille sviluppatori dei pokemon Potrei usarlo per registrare le lotte Assurdo Non lo userò veramente mai Grazie mille Grazie di occupare memoria In questo straordinario modo Ti ringrazio Qui che si fa? Si fa a botte coi vecchi? È il mio luogo preferito Esame di lotta No Non mi sento in grado Dopo aver perso l'invertilotta contro Proseguiamo Nella scoperta della città Qua c'è È rimasta la televisione Qua c'è la mappa Sarà inutile certo Non capisco un cazzo Ok alla fine so quattro stanze in realtà Questa è la palestra Che vorrei un attimo evitare La bici La bici La bici La bici La bici Non so a che serve Entriamo un attimo nel luogo della televisione Entriamo un attimo qui a Saxarubra Vediamo un po' Facciamo un attentato No scherzo Questi sono gli studi di Teleciclamivoli Realizzando i programmi televisivi Che vengono trasmessi in tutta OAN Che culo Ah quindi c'è la mia intervista In cui dico che voglio scoparmi i pokemon Per caso conosci gli Oanger Chi sono? No Un nome strano I paladini dell'armonia Una squadra di eroi che ho creato io Cambia nome Fidati OAN EGGER Non è un bel nome Ci sarà qualcosa di interessante Qui dentro del solo film Quest'anno sarà grande Andrò in televisione Che buco di culo Ecco perché sta fallendo questa azienda Perché ci mandano i tiktoker come te Questa cerca le autografie Questi non mi dicono un cazzo di niente Tu che sei in giacca e cravatta Sarai un po' più importante dei tei ragazzini Hai già registrato la funzione street pass? Puoi farla a Navidalk Ma che cazzo me frega Oh bello Là c'è uno strumento No È una sedia Posso fare le mie OTG? Sì ma è inutile Tu che riprendi Ma pisa ma posala Stai visitando gli studi Allora non toccare le attrezzature Potrebbe essere pericoloso La prima cosa che faccio Guarda spacco tutto Ah una softbox Bu 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 Ma c'è un cazzo Qua la posso premere? Posso premere niente tanto È inutile che mi dici non toccare le attrezzature De base non le posso toccare? È finito È inutile Cioè si presenta come il miglior luogo della storia dei Pokémon E alla fine fa schifo Che delusione Una delusione cosciente Non tesi idea Non gli dà soddisfazione Vattene Abbiamo solo scoperto che esistono gli Oneagor Straordinari Andiamo sopra Vediamo che c'è A questo punto Eh fare la palestra ma Mi serve un altro tizio Mi serve un altro Pokémon Che c'è da guardare? Sto aspettando qualcuno con un Genesect Frate è rarissimo come Pokémon Ma chi te lo dà? Ah qui c'è un attico Oh no formula Rhyorn Oh no ancora i Rhyorn Frate è un veicolo a forma di Pokémon No è un Rhyorn La Rhyorn mobile è fuori servizio Ah ma è finto? Ah è finto? Oli sci Qua c'è la torre della Miscordia Questa ti fa venire Signora si sposti Le sue cellule tumorali stanno crescendo Guarda lassù Oddio Che invita il Taylor Mo c'è cagantesta È il vecchio che guarda i bambini Invece di portare a spasso il mio pocione Lo porto e qui Lascio che giochi con mio nipote Fai bene Però te devo purtroppo fermare Cassia Aspetta Eh mo ce l'hai dietro Come famo? Eh adesso si è ribaltata la situazione Eh è andata così La panna a sinistra Che è a destra Qua c'è un'altra torre Qua sono tutte full radiazione Le gare live Ci sono le gare in live Straordinario Chi è? Mi ha bloccato Oh no Lo zio Chiudi gli occhi e apri le mani Boom Mi sbrano le sue mani Opla libero Dovrei un po' appartire a te Pepita È una pepita Fane tesoro E se ne va Ricorda è la mia pepita Guarda non la vendo Perché so che prima o poi Me la verrai a richiedere Io ti dirò Non l'ho mai venduta Io ci tengo a te Da quanti mesi staglia una pietra grezza Il cui scintillino fu scato da insicurezza Una ragazza come lei Potrebbe diventare una nuova stella delle gare Oh? Ma stai spiando una donna? Anche tu dovresti partecipare alle gare live Certo Non lo farò Pensa a te Ah lì si va a sinistra Questi fanno le saffiche Io ho il forte dubbio Che sia un posto inutile Oggi è il mio giorno libero Ma se penso che domani Devo tornare al lavoro Pensa a te Vabbè è tutta gente che Come al solito In realtà non ci dice Un cazzo di niente Un cazzo di niente Veramente Però se io vado a sinistra Scendo Ah quindi al primo di sopra È inutile Totalmente inutile Sembra esagerata sta cosa La parte vostra però Non serve un cazzo Eh torniamo giù allora Però fammi vedere una cosa Voglio vedere se quella Quella è una palestra effettivamente Non c'è più nient'altro da fare A parte lui che aspetta Un Genesect che non otterrà mai Perché O ti arriva uno con i cheat O non te lo posso notare Stupido Vorrei capire un attimo La bici Dove si prende la bici Questa è la bici O è un parcheggio Io non ho capito Ma sei tu il capo della bici La pigione delle quattro sorelle De bussola Ma chi è? Di qua si va al percorso 110 Ah è semplicemente una persona Che sta a letto Dice indicazioni È il matto del villaggio Va bene Sì lo so Io vorrei una bici Ma forse devo fare prima la palestra Vabbè Non vedi la palestra Ah ma di qua mica ci sono stato Caffè bel canto Ah questi sono tutti caffè Questo è chiuso per ristrutturazione Questo è lo zio Ma sono tutti uguali Ha chiuso bottega Holy shit Sì dammi tutti i tuoi premi Pezzo di merda Oh le bambole Oddio pieno di bambole Ne dai un'altra allora Certo Che ci posso fare? Oh voilà a capire Qua come al solito Come prima Gente che vende in realtà Vedi Specializzato in specchi Ah qua gli devi da tornato Stundurus Solandurus E te dà uno specchio Ho capito Ma serve più a belli qualcosa? Tu che sei un'edicola Ma dai tre pacchetti pokemon Vuoi spendere delle poche miglia? Non penso di averle Ne ho zero Dai Ete crystal Se vediamo mai più Tu fai massaggi erotici Riflessologia? Facciamo massaggi di pokemon? Certo Beato lui Posso farlo anch'io dopo Con le tue splendide mani? Non credo Stai affezionato di più? Eh immagino Io pure mi sarei affezionato E te invece che fai? Quanto vuoi? Questo è il posto più bello di Owen Per passare le giornate bighellonando Bighellonami tutto Vuoi vedere il mio bighellon? Vabbè Qua vendono accessori per gay Fiocco che fiocchi? Non voglio nessun fiocco Qua a sinistra vai verso lì giusto? Ok Questa è la pensione Questa è la pensione Ok questi sono allenatori Vorrei vedere Dei pokemon Oh stai calmo Tipo te Ah rossi Che cazzo ce faccio con te? Dimmi tutto Il top sarebbe averci uno di terra Che noi ovviamente non possediamo Attualmente Che niente Il top sarebbe avercelo Vediamo se qua c'è qualcosa di interessante Ah c'è un repellente No semplicemente Non puoi trovare pokemon selvatici Sul videogioco Uno di terra carino dai No Roselia va bene Stiamo qua fin quando non lo trovo Allora vi faccio vedere Un po' velocizzando Che pokemon ci sono Possiamo trovare Uno splendido esemplare di Merrill Poi possiamo trovare Uno splendido esemplare di Merrill Inoltre Possiamo trovare Se ci fate caso Uno splendido esemplare Di Merrill Questi più o meno Sono i pokemon Che possiamo trovare In questa zona Quindi direi che è pisciata L'idea di cattura dei pokemon terra Anche perché qui non esistono Proprio Se io vado un po' più avanti Questo che è Lei vai verso Mentania Che è una città nuova in realtà Perché sbelluccica? Perché sbelluccica? Mi dica è shiny A buono No Perché sbelluccicava? Non sapevo mai se è shiny No è impossibile Però perché sbelluccicava allora? Qual è il suo segreto? Perché sbelluccicava? No se è a shiny impazzisco Ovviamente sto male Vabbè non sapremo mai Se sbelluccicava Perché era shiny o meno Merda non lo sapremo veramente mai Questo è un grave problema Io sto Ah maulite Serve per fare Che cazzo serve? Per fare mega mawile? Mega maiale? Diventa mega? Oddio è mega mawile Assurdo Oddio ma è fichissimo Mega mawile Ma guarda che tamarrone Ed è rosa Non è marrone Carino Allora quella è Mentania E purtroppo il po' Che io e te non lo posso più levare A me mi dispiace Ma Caccia il cazzo Ok Questo è Arnavidex Ok Arnavidex Fatta ricordare come funziona Ci sono ancora di po' Ah e ti dice Nell'area Ok ho capito Però perché mi dice Percorso 117 Perché io sono effettivamente Al 117 Puoi entrare Questi sono allenatori Che tutti schifano M'hanno giocato Ho detto che l'ho schifato Tutti Ci sarà un motivo Veloce Mandalo a casa Mandalo a casa Dai non me vado Perde tempo Rosico che non trovo Che non c'è un pokemon Roccia Non so dove andarlo a prendere Sinceramente Probabilmente da nessuna parte Perché comunque anche se lo prendessi Sarebbe mega under livellato Fammi salvare Che è un'ora e mezza Che sto a giocare Se crasha guarda che bestia Il mio dio Quindi in realtà è mezzo inutile Sono il proprietario della pensione Aiutiamo gli allenatori A prendersi cura dei preziosi amici Se puoi affidarci dei pokemon Rivolgiti a mia moglie Non mi affido niente Non mi affideremo anche Le chiavi di casa Se mi trasferissi Ruba la velocità della luce Non posso A lato non puoi Solo da davanti Solo da davanti Che cazzo fa Scusate in cosa si evolve Ovviamente Che vi ho detto Ogni lotta Che io salto Si evolve qualcuno Ma questo giro Si sta per evolvere Django terzo In che cosa si evolve Scusami Io non lo faccio Evolvere Che diventa Linone Dal 20 Ma chi te si incula Come faccio a bloccarlo Premendo B No ti devi bloccare No bloc- Dai Così Tu rimarrai così per sempre Non ti evolverai mai Non migliorerai mai Rimarrai sempre Django terzo Non ti permette mai più A fare una cosa del genere Ma mo si evolve Ogni volta che salgo di livello Comunque Benvenuti a Mentania Enrico Proprio lui Perché siamo a Mentania Perché secondo me Qua forse dei pokemon Li troviamo De roccia Facciamo Andiamo un po'anti Per tornare indietro Perché sono abbastanza convinto Che in realtà Qui dei pokemon roccia Li possiamo trovare Ora senza andare A esplorare troppo Perché non ci roviniamo La sorpresa Però tipo Tundelmanferro Collega Ferrugipoli a Mentania È sospeso Però io posso entrare Non posso usare Spaccaroccia Ma qua i pokemon li trovo Ok là c'è C'è il cazzo Nella roccia Fondamentale Un pokemon roccia Un pokemon Ruggiamo in una caverna Fatta di roccia Mi devi dare un pokemon Fatto di roccia Manco roccia In realtà terra Terra ma chi cazzo Trovo terra Ma come ar 9 Ma che significa No Preduce l'ar 9 Pokemon Ar 16 16 ce faccio Cazzo Poi qua non li troverò mai Quelli di terra Tentenna Tentenna Scusate se lo schifo Ma veramente Verso inutile Ok Ok grazie Ora io non capisco Se Il navidex Mi dice Cioè mi fa vedere Quella zona lì Che è una zona specifica Ma non so se intende Che devono andare là Per trovare i pokemon Che mancano O se è inteso Tutto il tunnel Perché mi pare Che ci siano solo Ci sia solo questo Bastardo Scusate Vorrei prendere Un pokemon de terra Non esistono In questo videogioco Per favore Uno Almeno per far finta Deve fare una palestra Fatta bene No qua non puoi andare Da nessuna parte Letteralmente Da nessuna parte Sì perché ti serve Per fare il tunnel Per andare oltre Niente Mi sa che è pisciata Lì da te prendere Un pokemon de terra Qua c'erano strumenti Zero strumenti Nessuno strumento Ma è merda Lo fa ogni livello Scusate Che gli devo dare Per evitare Che ogni livello Questo cerca di evolversi C'è crede C'è crede Ma non ha capito Che non lo farà Tipo pietra dura Pietra stante Gli devo dare Ma non ce l'avrò mai Pietra lieve No Pietra lieve Ti fa dimagrire Ti fa fare la sleeve gastrectomy E non ce l'ho E non ce l'ho Mi serve la La pepito La pepito sfera Che ti fa diventare Il pipita Iguain E no Mi serve la vaso sfera Come si chiama La pietra stante Chissà dove cazzo la trovo Questo ogni livello Regà Questo ogni livello Mo ne fa un altro Ogni livello Mi chiederà di evolversi Devi stare fermo Tu dove corri Nicola triatleta Guarda questa è una problematica Gigantesca Allora me so sbagliato Perché come vedete Sto usando Ma in realtà Dovrei usare Ah è uno solo Meno male Pensavo se volesse evolvi anche qui Ma te Mi devi levare la velocità Se no non riusciamo a vivere Ok ragazzi Deve tornare dietro E si deve fare la palestra In queste condizioni Si deve fare la palestra In queste condizioni Senza un pokemon de terra Annaggia che rusicata Ma nel pokédex Io posso mettere Pokemon de terra E basta Metti vedo su google E barro Pokédex Pokemon Rubino Omega Sborro qui Pokemon di Owen Ah c'ho un marshtop Marshtop è acqua terra Aha Già posseggo Però è anche acqua Quindi in realtà Elettro Comunque c'era un percazzo Zero per elettro Tutto questo macello E poi ce l'ho in squadra Vabbiamo che ci stiamo Vediamo che si può catturare Nel futuro Tipo erba buio Perché noi abbiamo mai Tiena Però nulla ci veda Di modificarlo Shiftry Se me sarebbe Una buona entry Con erba buio Questo rimane Psicofolletto Per ora lo teniamo Mi sarebbe un volante Poi dovrebbe Bisognerebbe capirlo Marijuana Potrebbe essere carino Perché non l'abbiamo mai usato È tipo golem Capito Tutte queste cose Non so c'è qualcuno Che dice Asdrogo Aggron Troppo Troppo classico Magnezone Lo salutiamo Già usato Weylord sarebbe carino Perché è un grande difensore Camerut sarebbe carino Tanto il fuoco Non ce l'abbiamo Un po' di possibilità Secondo me Le possediamo Il vero pokemon Leggendario dei pokemon È Gengar Non lo puoi usare mai Impossibile utilizzarlo Allora a sto punto Io mi farei La palestra Dopo la palestra Mi farei Un verbo in botto No mi farei Cercare dei capi La bici Poi possiamo andare A mentania E poi Possiamo fare Il tunnel Menferro Almeno colleghiamo tutto Perché lì potrebbe essere fondamentale Allora io ho letto Che però Se tu mi lasci L'ascensore Ah non lo posso No ok Non lo posso fare Non lo posso fare Ok Ok E famosa la palestra Con Swampert No con Marshtomp Come cazzo si chiama Ciao frate Sono arrivato A rompe per culo Allora dai una baccaliegia Perché tanto ti paralizzeranno Poi che cosa abbiamo Confusione Dal sonno Baccaliegia Da recuperare Con bacca arancia Quindi in realtà Ci siamo abbastanza Nel chilling Capitano mio capitano Ciao 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 recognised 兒